Maria Cappellino Revisore Maria Cappellino Revisore Maria Cappellino Revisore Maria Cappellino Revisore Oggi appunto vorrei parlarvi del dialogo interreligioso e credo che sappiamo tutti bene l'importanza di questo discorso proprio in un mondo molto frammentato, molto conflittuale dove troppe volte, in troppi luoghi spesso si utilizza anche il discorso religioso per compiere violenza per combattere contro gli altri in troppi luoghi si uccide in nome di Dio questo noi lo sappiamo però questo discorso del dialogo interreligioso non è scontato non è scontato perché c'è chi dice che il dialogo dialogare è un modo in fondo per anacquare la propria identità religiosa è un cedimento verso gli altri verso chi magari si vede un po' come estraneo, come nemico addirittura è un indebolimento della propria fede e poi c'è anche chi così è un po' perplesso su che cosa serve al dialogo in fondo si parla, ci si confronta, ci si incontra e poi però i conflitti continuano, le violenze continuano e quindi molti dicono che il dialogo in fondo serve poco non serve a tanto però io mi chiedo e vi chiedo anche ma cosa sarebbe il mondo oggi senza il dialogo? cosa sarebbe il mondo dopo l'11 settembre senza il dialogo tra le religioni? cosa sarebbero le nostre città, penso Milano senza il dialogo tra comunità religiose che vivono qui? e Milano è un laboratorio in Italia, in Europa per il dialogo è una realtà molto bella, molto importante allora io credo che dobbiamo appunto riflettere di più su che cosa significa anche dialogare che cos'è il dialogo interreligioso in questo senso la comunità di Sant'Egidio crede molto a questo discorso la comunità di Sant'Egidio è nata appunto nel 68 a Roma da uno studente diciottenne, Andrea Riccardi era un gruppo di studenti che hanno iniziato a vivere insieme un'esperienza cristiana e oggi appunto Sant'Egidio è una realtà internazionale presente in più di 70 paesi in tutti i continenti sono uomini, donne, che pregano, che vivono il Vangelo che sono amici dei poveri che quindi vivono un'amicizia concreta e familiare con chi è più debole e che lavorano per la pace e lavorare per la pace vuol dire appunto anche lavorare per il dialogo interreligioso allora per spiegare anche che cos'è meglio il discorso del dialogo interreligioso parto da una storia è la storia di centinaia, migliaia di uomini, donne, bambini, profughi che arrivano sulle nostre coste questa immagine è un'immagine molto eloquente anche particolare una spiaggia della Sicilia l'estate scorsa una domenica famiglie sulla spiaggia abbastanza ignare una giornata di vacanza e a un certo punto si materializza un barcone un barcone carico di ragazzi africani di profughi di gente che scappa dalle guerre che scappa soprattutto da situazioni molto difficili molto dure è come se nella vita normale di tutti i giorni irrompesse la storia irrompesse la domanda anche un po' il grido che viene da realtà che noi pensiamo lontane ma che poi sono molto vicine tanto vicine che ci toccano direttamente che le incontriamo, le tocchiamo e dopo un inizio di smarrimento queste persone hanno iniziato poi a aiutare questi profughi a sbarcare si sono andati da fare per cercare di aiutare questi ragazzi è la storia di migliaia di persone l'anno scorso 170.000 persone sono sbarcate sulle nostre coste hanno attraversato l'Italia perché sono quasi tutti in transito più di 50.000 sono passati da Milano è gente appunto che sfugge da situazioni molto difficili penso la Siria penso l'Iraq penso tante situazioni dell'Africa penso all'Eritrea e tra questi appunto molti sono giovani eritrei che scappano da un paese difficile da un regime politico molto duro pensate che in Eritrea il servizio militare ha durata illimitata i giovani vengono utilizzati come forza lavoro per costruire le strade nelle miniere una forma di semischiavitù praticamente molti scappano si calcola circa un migliaio a settimana e la polizia di frontiera ha il potere di sparare su chi cerca di lasciare il paese ma questi ragazzi non si fanno intimidire da questo e scappano e inizia quindi un viaggio tremendo, impressionante perché attraverso paesi il Sud Sudan il Sudan l'Egitto poi molti arrivano in Libia e poi attraversano il mare e che arriva qua spesso sono dei sopravvissuti lo sappiamo quanti muoiono in mare e penso mi viene in mente anche appunto pensando a questo la storia di un ragazzino di 17 anni che ho incontrato l'anno scorso a Porta Venezia qui a Milano perché era lì il luogo dove un po' si radunavano i profughi eritrei e che aveva 17 anni ma era partito quattro anni prima ci ha messo quattro anni per arrivare in Italia questa è la storia di tanti ed è la storia anche di molti che arrivano in Sudan vengono spesso concentrati in alcuni campi e poi però accade che vengono comprati da dei trafficanti di uomini che li vendono ad altri trafficanti di uomini e questo spesso avviene perché così si ricattano le famiglie e si chiede un riscatto ma ancora peggio alcuni vengono anche uccisi per espiantare i loro organi e molti di questi finiscono prigionieri di gruppi di clan di beduini nella penisola del Sina in Egitto tra l'Egitto e Israele e in quel luogo vengono appunti tenuti in schiavitù spesso torturati in situazioni molto molto difficili molti di questi profughi eritrei sanno che in Europa in Italia a Milano c'è una donna una donna straordinaria che si chiama Al Ganesh Fessah è di origine eritrea è cittadina italiana è un medico è una donna il cui numero di telefono è in mano a tanti profughi eritrei che sanno di poter contare su un aiuto quando arriveranno in Italia e molti di questi profughi raccontano hanno raccontato ad Al Ganesh la loro situazione che si trovavano prigionieri che si trovavano sfruttati torturati e incarcerati e è andata a conoscere sapeva che c'era uno sheikh un capo locale un musulmano molto autorevole nella zona e ha voluto andarci a parlare per cercare di capire se potevano collaborare va nel Sinai e questo uomo è un po' perplesso vedere questa donna cristiana europea non capiva bene come mai era lì la fa aspettare per due giorni nella sua casa prima di incontrarla però Al Ganesh non si arrende non si rassegna perché vuole salvare le vite di quelle persone e allora dopo due giorni comincia questo dialogo questo incontro tra questo musulmano questo sheikh e questa donna cristiana e Al Ganesh spiega la situazione il dramma di tanti profughi eritrei che sono resi schiavi dai beduini e spiega anche che è contro la legge dell'Islam fare questo che un vero musulmano non può fare questo allora quest'uomo comincia a capire e da lì nasce un'amicizia molto bella e nasce una collaborazione tra queste due figure tra questa donna cristiana e quest'uomo musulmano cominciano a capirsi a lavorare insieme e con la forza del dialogo con la forza delle parole e della persuasione convincono tanti di questi beduini a liberare queste persone negli ultimi due anni Al Ganesh ha liberato quasi 500 persone insieme al suo amico musulmano questa storia ci dice che cos'è il dialogo il dialogo è il lavoro comune di uomini e donne di fedi diverse che si impegnano per salvare la vita dagli altri che si impegnano per pacificare situazioni difficili che lavorano per difendere i diritti umani di tutti questo è il dialogo questo è lo spirito di Assisi lo spirito di Assisi nasce da quella grande intuizione che è stata quella di Giovanni Paolo II nel 1986 nella città di Francesco d'Assisi di riunire e convocare tutti i rappresentanti delle chiese cristiane delle grandi religioni mondiali per pregare gli uni accanto agli altri non più gli uni contro gli altri per pregare per la pace era l'intuizione in anni in cui le religioni non contavano tanto siamo ancora prima della caduta del muro in piena guerra fredda le religioni non contavano tanto ma Giovanni Paolo II aveva intuito la grande forza che c'è nelle religioni quando gli uomini di fede le donne di fede vanno nel profondo delle loro convinzioni religiose e allora che sono capaci anche di vedere il meglio che c'è negli altri e diventano capaci di lavorare per la pace noi sappiamo come dire c'è un po' una contraddizione in fondo oggi vediamo quanto la religione può essere benzina gettata sui conflitti però le religioni possono essere anche quell'unguento buono che cura le ferite e questo è successo in tanti paesi quell'incontro di Assisi è un incontro che parla appunto di dialogo di incontro di preghiera per la pace nella città di Francesco non dobbiamo dimenticare che Francesco di Assisi è stato un uomo del dialogo che in tempo di crociate ha attraversato i confini tra mondo cristiano e mondo musulmano per andare a parlare al sultano quindi la figura di Francesco parla di pace Assisi parla di pace nel mondo quell'incontro fu un incontro straordinario questa immagine è forse una delle immagini più significative del novecento e a quell'incontro la comunità di Sant'Egidio ha lavorato perché portò appunto dei rappresentanti musulmani e dopo quell'incontro abbiamo pensato che non poteva restare una bella cartolina di un giorno ma che si dovesse continuare questo spirito e lo spirito di Assisi la comunità di Sant'Egidio l'ha portato avanti con fedeltà con tenacia da quell'anno ogni giorno ogni anno in città diverse in Italia in Europa e fuori dall'Europa si realizzano incontri interreligiosi di questo tipo rappresentanti delle grandi religioni che si trovano si incontrano si interrogano sulle domande che vengono dai conflitti dalla povertà dalle grandi domande del mondo contemporaneo e che insieme cercano di costruire appunto un mondo più umano un mondo più pacificato questo percorso ha attraversato tante città è arrivato anche a Milano prima nel 1993 una prima volta una seconda volta nel 2004 sono stati incontri molto significativi e si è creato come un grande cammino che ha coinvolto e coinvolge centinaia di persone che poi si impegnano nei loro paesi e questo cammino è un cammino che aiuta tanti ha aiutato tanti a cambiare idea a vincere pregiudizi a impegnarsi insieme con altri per costruire la pace penso ai rappresentanti delle religioni che lavorano in Nigeria o in Medio Oriente in Iraq o nella Repubblica Centroafricana paesi dove c'è un conflitto che è anche un conflitto di tipo religioso ma tutto questo da dove nasce dove nasce questo discorso del dialogo interreligioso beh nasce molto io credo dall'amicizia con i poveri chi è più altro da noi di un anziano che vive solo in un istituto di un bambino rom che vive in un campo fangoso alla periferia delle nostre città di un immigrato che arriva da un paese lontano o di una persona che vive per strada stando accanto ai poveri diventando amici dei poveri la comunità di Sant'Egidio ha imparato a entrare un po' nella vita degli altri a capirne la sensibilità a capire il proprio punto di vista a leggere anche appunto le sofferenze le domande le aspettative la ricerca anche di un futuro diverso le speranze i sogni insomma noi abbiamo incontrato lì e abbiamo imparato come dire con i poveri quell'arte del dialogo e dell'incontro peraltro i primi musulmani che abbiamo incontrato erano i nostri amici immigrati e molti poi ci dicono ma voi come fate a parlare con i musulmani? ma in italiano come ci si parla? è così che si incontra la gente si incontra con un tratto umano con imparando appunto quell'arte del dialogo e dell'incontro che è anche uscire dal monologo questo è il dialogo rompere il monologo rompere la tendenza a parlare solo su di noi di noi ma guardare agli altri ascoltare agli altri e costruire con gli altri un futuro diverso allora vorrei chiudere solo con un detto musulmano che mi ha insegnato un mio amico marocchino che dice una mano da sola non applaude grazie